La notizia era nell'aria e quando è arrivata l'ufficialità nessuno in casa Asiago Hockey è rimasto sorpreso. Annullata la Continental Cup di cui proprio Asiago avrebbe ospitato le semifinali. La situazione legata all'emergenza Covid porterà probabilmente alla cancellazione anche del Mondiale. Ma in una situazione come questa con delle complicazioni così abbondanti di Covid nei paesi da dove dovevano provenire le squadre la IHF e la Federazione Internazionale non poteva scegliere diversamente. Quello che è importante è che quantomeno conserveranno i nostri diritti di partecipazione alla Coppa Europea per l'anno prossimo. In vista della ripartenza la recente riunione con gli organi federali e i presidenti della Serie A è stata l'occasione per parlare anche della questione pubblico allo stadio. La cosa più importante è stata le linee guida per gli stadi aperti per la prossima stagione e quindi la speranza finalmente di poter fare il campionato comunque con la partecipazione del pubblico seppur disciplinato ma così. Le ambizioni del club parlando di hockey giocato restano alte. Le ambizioni non cambiano per noi primo posto arrivare in finale diciamo più che primo posto arrivare in finale sia del campionato italiano sia del campionato AHL è sfumato quello che era il primo target cioè la Continental Cup però le altre due noi vogliamo arrivare in fondo, vogliamo arrivare bene vogliamo arrivare portando avanti ancora il nome dell'Asia hockey come è stato negli ultimi anni.